Comunque posso dire una cosa, anche qui l'Italia è divisa a metà Cioè tette e culo? Esatto Vai Canepano, mette l'ute No, nel senso che ci sarà molta gente che piace i tette e molta gente piace i crudi I piedi? I crudi, ma il piede, non tutti sono feticisti, nel senso non è che uno guarda il piede Io parlo proprio a livello, se sta tanta gente sicuramente piace più i tette e gente piace molto più il gluteo Secondo me l'inganno sta nella scelta Poi se c'è tutte e due fermi ragazzi, qui siamo proprio a livelli altissimi, alta scuola Proprio alta scuola, però io ho notato una cosa, non lo so se l'avete notato voi Comunque vedo sta chicca perché il grande Canepasso da sempre le chicche Vi do una perla Vai dici Chi ha le tette grandi, cioè tipo una quarta, una quinta, una sesta Ha il culo piatto, fateci caso